Ciao a tutti, sono Giovanni. Prima di tutto vorrei augurarvi un buon 2015 e spero che abbiate deciso profondamente che quest'anno sia un anno pieno di vittorie e se non l'avete deciso siete ancora in tempo. Questo è il primo video di una nuova serie che ha come obiettivo quello di recensire un po' di materiale cartaceo presente in commercio che parla della coltivazione degli orchidee. Il primo libro di cui voglio parlare è questo, Orchidee guida pratica alla crescita di orchidee per principianti di Filippo Fabri. Allora vi dico già che a me la copertina piace tanto. Partiamo dando uno sguardo al sommario. Allora abbiamo informazioni sull'autore, come far fiorire le orchidee, come far fiorire le orchidee Catleia, come far fiorire le orchidee Cimbidium eccetera eccetera. Allora il libro tratta dei generi più comuni di orchidee, quelli che più facilmente finiscono nelle nostre case. L'autore dedica due pagine per ogni genere di orchidea, però se poi noi andiamo a guardare in realtà non sono mai due pagine. In meno di due pagine l'autore cerca di parlare di tutto, come quando annaffiare, concimare, rinvasare, parla della luminosità ed ha anche qualche consiglio su come farle rifiorire. C'è da dire che in meno di un'ora questo libro si legge tutto e se si legge tutto di un fiato appaiono ancora più evidenti le ripetizioni, ovvero frasi preimpostate che vengono ripetute per tutti i generi. Alcuni punti sono un po' confusionari, un esempio che vi voglio leggere è questo sul genere Catleia. Qua parla dell'acqua e dice Per crescere bene le Catleia hanno bisogno di molta acqua. In genere questi fiori prosperano se sono innaffiati regolarmente tutti i giorni durante la stagione della crescita. In inverno possono essere innaffiate con minore frequenza. Quando si dà l'acqua, come con tutte le orchidee, è essenziale che l'acqua scorra via dal vaso, in modo che il terreno si asciughi tra una innaffiatura e l'altra. Questo perché le orchidee sono piante più fitte, il che significa che crescono in cima agli alberi e sono abituate ad asciugarsi completamente tra una pioggia e l'altra nel loro abitato naturale. Controllate sempre il terriccio e assicuratevi che le radici non stiano marcendo e che non si dia mai troppa acqua alle vostre Catleie. Che non si dia mai troppa acqua alle vostre Catleie. E all'inizio ci ha detto che le Catleie hanno bisogno di molta acqua tutti i giorni, però poi ci dice che essendo epifitte è importante che si asciughi tra una innaffiatura e l'altra. E diciamo che per me è un po' confuso perché se tu mi consigli di annaffiare ogni giorno, anche se è il periodo vegetativo di crescita, come posso permettere al substrato di asciugarsi se do acqua ogni giorno? Non si asciuga. Poi alla fine le radici mi marciscono. Quindi diciamo che non mi sembra un consiglio buonissimo. Già io di base non sono molto d'accordo con il consigliare ogni quanti giorni va innaffiata un'orchidea perché le condizioni, il substrato, le condizioni della pianta in generale sono sempre differenti da casa in casa. Ed è veramente difficile azzeccare dicendo una volta ogni tre giorni, una volta alla settimana. E sarebbe diciamo più opportuno invece dare un'idea, cioè dare tutte le informazioni riguardanti quella pianta, ciò che quella pianta ama e poi ragionare sull'ambiente e sull'ambiente di coltivazione e di conseguenza decidere ogni quanto a annaffiare. Quello che manca a questo libro secondo me è una struttura forte con una buona introduzione. C'è da dire però che alcune informazioni sono buone. Diciamo alcuni consigli sono buoni. Però allo stesso tempo sono sicuro che se un principiante dovesse leggere questo libro e seguirlo alla lettera per coltivare le sue orchidee quasi sicuramente alla fine non molte resterebbero in vita. Se io oggi, che non sono un esperto, dovessi scrivere un libro su come coltivare le orchidee e trattare gli stessi generi con le stesse pagine sicuramente scriverei un libro migliore. Quindi vi ho detto tutto. In più le informazioni che trovate in questo libro le potete trovare tranquillamente anche su web. Ad esempio, un sito web può essere il sito elicriso. Anzi, in questo sito ci sono molte più informazioni e alcune sono molto più dettagliate e più chiare. E ancora di più sono gratis. Vi lascio il link nella descrizione così potete consultare questo sito ma sono sicuro che la maggior parte di voi già lo conoscono. Se il regia mi manda la grafica possiamo procedere con la votazione di questo libro. Come potete vedere abbiamo 4 orchidee. Vediamo quante orchidee ho assegnata a questo libro. Mezza Orchidea Mi dispiace ma già dalla recensione avrete capito che non è un libro che consiglierei di acquistare. Questo è il mio pensiero personale. Se voi avete letto questo libro e avete un pensiero diverso dal mio potete lasciarmi un commento e ne possiamo discutere. Diciamo che Mezza Orchidea è quasi solo esclusivamente per la copertina che a me piace abbastanza. L'ultima cosa che vorrei aggiungere è riguardante il prezzo. Vedremo più in là libri che ho pagato 1 euro in più o anche meno di questo e che all'interno possiedono una marea di consigli utili e dettagliati. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di alzare il dito se questo video vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.